E parte il match tra Sibilla e Real Forio, poi Babù per guidare il contropiede del Real Forio, eccolo Babù, prova ad accentrarsi, il pallone sul sinistro davanti a lui, c'è Fiore, ancora Babù, sta arrivando anche amabile, Babù, il sinistro di Babù, la parata. Verso Scarparo, poi Valoroso, arriva al limite dell'area di rigore, il sinistro da fuori di Fusco, ora Valoroso, pallone verso il centro, verso Illiano, Iacono si va a superare la traversa di Illiano e poi questo piattone, quasi a colpo sicuro di Petrone, un'azione lunghissima, Al campo, amabile, la sventagliata verso Babù, lo stop del pallone da parte dell'esterno Foriano, Babù in area di rigore, ancora finte verso un avversario, finisce a terra, scalciato, Babù, è un 3 contro 3, anzi un 4 contro 3, Sorrentino, Sorrentino fa giocare amabile, gli fa scavalcare per un attimo dal pallone, amabile, torna ad accentrarsi il tiro, buono di amabile, c'è amabile, Può partire il contropiede del Forio, amabile, amabile, il pallone per De Luise, De Luise, il sinistro di De Luise, il pallone alto, battuto il corner, il pallone che passa in area di rigore, Costaiola, Costaiola finisce a terra e l'arbitro indica il calcio di rigore per la Sibilla. Costaiola contro Del Rico, parte Costaiola, il tiro e il gol, gol di Giuseppe Costaiola. Anche il passaggio per De Luise, l'apertura, cercare Migliaccio, 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 in cespica nel pallone, incredibile, clamorosa questa occasione per il Forio, c'era anche fuorigioco però. parte il secondo tempo, ancora di Fusco, ancora mano alzata, sfiorano il pallone, occhio a battaglia con il sinistro! la parata di Del Rico, c'è De Luise, De Luise cede ancora a Babu, Babu per vie centrali, Babu può far giocare Galloppa, Galloppa! la parata! di Fusco, battuta la punizione, con la testa, la traversa ancora, incredibile, di battaglia! batte di Fusco, ancora a battaglia, a far paura! espulso, attenzione, Trani, espulso anche Giuff, va ancora di Fusco, il attiro e il gol, 2 a 0 della Sibilla! Maione, un pallone rinviato, si fa scavalcare anche Festa, c'è Maiella, Maiella, Palo, Scarparo, Scarparo, attenzione, si accentra, potrebbe andare col sinistro, infatti è così, c'è il 3 a 0! abbiamo visto l'assistente a terra, non è stato chiaro il motivo fischiato la fine intanto il direttore di gara, finisce la partita dunque 3 a 0 per la Sibilla